Benvenuti alle 33esime giornate cardiologiche torinesi. Quest'anno parleremo in particolare di recenti evoluzioni in TAVI transcarotidee, parleremo di riparazione valvolare aortica, che è una tematica di assoluto interesse recentemente sollevata, parleremo delle tecniche più recenti di sostituzione valvolare mitralica transapicale e di interventistica transgiugolare per la tricuspide. Ci saranno un'interessante sessione sulla chirurgia coronarica, che è sia, ahimè di cui si parla poco, che vorremmo riscoprire anche alla luce dei recenti risultati di trial clinici e infine una interessante sessione sullo scompenso cardiaco. Credo che quest'anno più che mai gli argomenti sono vari e interessanti. Invito tutti a partecipare il 4-5 novembre qui a Torino. Grazie.